Tra Guidone e Larezzo si è inserito il Siena che con tutta probabilità riuscirà ad accaparrarselo. Anche se l'attaccante di proprietà del Padova non ha ancora manifestato la sua decisione definitiva, sembra orientato a scegliere i bianconeri. Da quello che trappela non si tratterebbe di una motivazione economica dal momento che Larezzo aveva comunque presentato una buona offerta, tanto che appunto in un primo momento sembrava esserci un accordo di massima tra il giocatore e la società amaranto. Poi quando è emerso il concreto interessamento del Siena, le cose sono cambiate. La ragazza del giocatore è senese e dunque questo aspetto sembra giocare un ruolo chiave nel portare Guidone a dire no all'offerta dell'Larezzo. Comunque ancora sono in corso delle riflessioni anche se la riserva dovrebbe essere sciolta a breve.